La magica atmosfera dell'Arena di Verona si è trasformata in un palcoscenico di emozioni. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Colmo di ospiti illustri, per celebrare i 80 anni di Albano. L'energia travolgente e l'entusiasmo del carismatico cantante di Cellino San Marco hanno incantato il pubblico presente. Non solo un concerto, ma un viaggio attraverso i brani iconici della musica italiana e coinvolgenti classici che hanno lasciato il pubblico senza fiato. L'incontro di Albano con gli ospiti speciali come Arisa, Gianni Morandi, i ricchi e poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero ha aggiunto un tocco di magia alla serata. Ma la sorpresa più grande è stata la riunione della grande famiglia di Albano sul palco. Accanto a lui c'erano Romina Power, i figli nati dalla loro unione e quelli avuti con Loredana Lecciso. Un momento intenso che ha visto un mix di emozioni contrastanti emergere in questo confessionale improvvisato. Durante il concerto, Albano ha aperto il dibattito con una domanda diretta a Romina, spiegami perché te ne sei andata, qual è il tuo rancore? La risposta pungente di Romina ha rivelato sentimenti contrastanti e segreti celati per anni, dunque è evidente che non eri solo ad aspettare. La notte si è abbattuta sull'arena di Verona, lasciando dietro di sé un alone di mistero e segreti che continueranno a perseguitare i pensieri degli spettatori. Chi avrà il coraggio di affrontare le tenebre e svelare gli enigmi nascosti di questa indimenticabile serata? Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.